Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato. Intesa dopo uomini e donne. Per molti mesi Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato hanno corteggiato a uomini e donne rispettivamente i tronisti Nilou Faradati e Nicolò Brigante. . Ovviamente in quei mesi hanno avuto modo di conoscersi meglio e diventare anche amici. Un'amicizia alla loro che è durata anche fuori dagli studi del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Chilippi. Di fatti in questi giorni Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari hanno pubblicato diverse foto insieme sui social. Ma ecco arrivare un'indiscrezione, che ha già alimentato il gossip. Cosa è successo stavolta? In pratica sotto una foto pubblicata da Marta Pasqualato su Instagram, il giovane Rampollo milanese ha scritto questo commento. A me sembri la principessa Sissi. Chiuse virgolette sono poi passate ore, e la ragazza ha pubblicato un altro suo selfie, e Nicolò ha scritto un altro commento, che ha fatto fantasticare i rispettivi fan. Vale la pena di combattere solo per le cose senza le quali non vale la pena vivere, a questo commento la giovane ha replicato con una faccina di una scimmietta imbarazzata. E tanto è bastato, come detto poc'anzi, per accendere gli animi dei fan su web. Di fatti sono stati tanti a pensare in queste ultime ore, che tra i due ex corteggiatori di uomini e donne possa essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Sarà davvero così? È scopiato l'amore tra Marta e Nicolò. Uomini e donne. È scopiato l'amore tra Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato. Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari si sono innamorati. Non è dato saperlo, ma ci sono stati diversi indizi sociali in queste intime ore. Che hanno fatto pensare ai rispettivi fan proprio questo. In pratica Nicolò Ferrari ha lasciato alcuni commenti a delle foto su Instagram di Marta Pasqualato. Dei commenti in cui Nicolò ha voluto complimentarsi con la giovane ex corteggiatrice di uomini e donne per la sua bellezza, e per il suo fascino. Ovviamente questi suoi gesti hanno immediatamente scatenato una bufera su web perché in tanti hanno pensato che tra i due possa essere nato l'amore. Ma non è finita qua perché in queste ultime ore una fan, ha scritto direttamente a Nicolò, domandandogli dove fosse al momento Marta. E a quel punto il giovane ragazzo ha risposto schiettamente. Una risposta, che comunque ha fatto capire e più che i due pare si sentano costantemente. Ci saranno news su questo nuovo gossip. .